Caravaggio e club Milano si sfidano nella finale di ritorno dei playoff di eccellenza. Ai Bergamaschi bastano 1-1 dell'andata mentre i milanesi devono vincere o pareggiare 2-2. I primi a creare pericolo sono proprio gli ospiti ma il tiro di pelle finisce alto e non di poco. Rispondono i padroni di casa con l'appoggio di Marrazzo per Galdun. Anche in questo caso il tiro è impreciso. Contropiede del Caravaggio guidato da Marrazzo, la conclusione di Bertoni non impensierisce però Silva. Il club Milano continua la ricerca del gol con Panzani che prova il tiro a giro parata facile di Pennesi. Sugli sviluppi di un corner non una ma ben due rovesciate dei Bergamaschi che si concludono in un nulla di fatto. Premono di più i ragazzi di Terletti seppur con imprecisione. Nelle immagini il tiro di Bertelli sopra la traversa. E quando la precisione non manca ecco la saracinesca. Silva prima respinge su Speziale e poi miracola sulla ribattuta di Bertelli salvando così i suoi. Si passa allora al secondo tempo e Pelle come nel primo prova la conclusione da fuori senza successo. Dopo una punizione Diucca ad avvicinarsi al gol respinge però Pennesi. Club Milano ancora vicino al gol e il tiro da lontano di Costa finisce però largo. E dopo un latitare di occasioni ecco il colpo di scena. Di maggio con un filtrante salta Bertelli e serve Natale. Palla morbida in mezzo e gol dei capitani Arankovic al minuto 77. Esplode di gioia il pubblico milanese per la rete del loro numero 10 che porterebbe momentaneamente il club Milano in serie D. I bergamaschi però cercano di rispondere. Cross di cacciatori per la testa di Pedroni. Altra super parata di Silva. E dopo un infinito recupero arriva la parola fine. Il club Milano batte il Caravaggio 1-0 e si conquista per la prima storica volta la promozione in serie D. C'è poco altro da aggiungere. Parola alle immagini. Parola alle immagini.